Il prezzo teorico optato, cioè quello che voi avete alla mattina alle ore 9 appena apre la borsa, il primo giorno del collocamento, il primo giorno dell'aumento di capitale, il solito aumento di capitale dura 20 giorni, durante questo periodo di 20 giorni tutti i possessori di vecchie azioni hanno lo stacco del diritto dall'azione, quindi vengono contate separatamente in borsa e hanno 20 giorni di tempo per decidere cosa fare, se partecipare all'aumento o non partecipare all'aumento. Se decidono di partecipare all'aumento ovviamente devono comunicarlo al proprio intermediario, se non decidono di partecipare all'aumento possono vendere quando vogliono il diritto, quindi lo vendono come un'azione in borsa, se non comunicano niente negli ultimi 3 giorni la banca a fronte del silenzio dell'investitore procede all'equidazione forzata del diritto in borsa, se infatti di soldi negli ultimi 3 giorni i diritti in borsa hanno delle decurtazioni violente di prezzo, cioè se volete ovviamente partecipare all'acquisto all'aumento di capitale via diritto, potete farlo comprando i diritti nell'ultimo giorno di quotazione, voi di solito vengono venduti a sconto. Quindi il prezzo teorico optato, adesso questi sono tutti i discorsi, è tutto abbastanza banale, l'azienda prima valeva 100, chiama l'aumento di capitale, l'aumento di capitale dura 20 giorni, vengono emesse 10 nuove azioni, ogni azione viene emessa al prezzo di 5, quindi l'azienda prima aveva 100, dopo incassa 50 e quindi i soldi che incassa sono le vecchie azioni per piccum più le nuove per il prezzo di emissione, che significa il valore di prima dell'azienda più il valore dell'aumento di capitale, diviso il numero delle vecchie azioni più il numero delle nuove azioni. Quindi, voi vedete adesso quello che avevo detto io prima, il capitale prima di aumento è V0, V0 più R, R è la raccolta di capitale con aumento, diviso nuove azioni e più le vecchie azioni. E questo è il prezzo teorico optato. Il diritto di evoluzione è la differenza tra piccum e pt0, c'è piccum è il prezzo delle 17.30 prima dell'aumento di capitale e il prezzo teorico optato è il prezzo il giorno dopo alle 9 quando ce lo stacco. Quindi piccum meno pt0. Ovviamente, maneggiando la formula, pt0, cioè il prezzo teorico optato, è uguale a piccum il prezzo delle 17.30 meno il diritto di opzione. Questo che cosa significa? Significa che voi, se siete un vecchio, ricordate la frase che avevo detto, che l'aumento di capitale con diritto di opzione permette a chi è già socio, e chi è già socio è chi comanda, di perdere in peso. Quindi chi è attualmente socio viene favorito, perché è vero che perde in peso perché non partecipa all'aumento di capitale, però attraverso il diritto di opzione mantiene inalterato il proprio capitale finanziario, perché può vendere in borsa. Cioè l'effetto di diluizione sul prezzo che avviene attraverso l'emissione di nuove azioni, cioè l'aumento di capitale, viene condensato nel diritto di opzione e chi prima possedeva un'azione, adesso possiede un'azione e un diritto e può vendere il diritto in borsa. Quindi de facto questa differenza tra piccum e pt0, che è il diritto di opzione, io lo posso vendere e quindi mi rimarrà in tasca l'azione che vale pt0 più l'incasso del diritto che mi fa il piccum. Ci siamo un po'? Come funziona il gioco? Allora, i prezzi di emissione delle nuove azioni è uguale al prezzo di ex, il prezzo della mattina alle 9, è uguale al prezzo di emissione, questa è un'elaborazione algoritmica della formula precedente, il prezzo ex, cioè il prezzo ex diritto, cioè senza il diritto, quello delle 9 di mattina, è uguale al prezzo di emissione più il diritto moltiplicato n fratto m, cioè il rapporto tra le vecchie azioni e le nuove azioni o il diritto è uguale al prezzo ex diritto meno il prezzo di emissione per il rapporto tra le nuove azioni e le vecchie azioni. Allora, l'anno scorso ho dedicato in particolare attenzione all'aspetto dell'arbitraggio che quest'anno non faccio perché secondo me ci porta un po' fuori da quello che è il percorso tradizionale dell'aumento di capitale, ovvero noi abbiamo queste formule che tengono assieme per i 20 giorni in cui dura l'aumento di capitale il diritto e il PTO, il prezzo della borsa che oscillano, perché noi parliamo del PTO come quello delle nove del giorno dopo l'aumento di capitale, ma in realtà il PTO e il diritto tutti i giorni sono quotati in borsa. Allora, noi abbiamo visto che tipicamente in borsa, è stato anche questo studio che io cito negli slide, il valore dei diritti per le operazioni in cui il prezzo di emissioni era inferiore a quello di mercato, che sono la maggioranza perché il prezzo di emissioni deve sempre essere inferiore a quello di mercato, altrimenti non ha senso partecipare all'aumento di capitale, risultava sconto di circa il 20% rispetto al valore teorico, con punte fino al 30% negli ultimi giorni di quotazione in borsa a causa della consuetudine per cui gli intermediari finanziari, come vi ho detto prima, procedevano alla vendita dei diritti all'ultimo giorno di quotazione qualora non ricevono istruzione della clientela. Ovviamente questo da luogo ha possibilità di arbitraggio profittevole, perché? Perché in base alla mia formula, io ho questa formula che mi lega il prezzo ex diritto che è uguale al prezzo di emissioni più D fratto N di M. Quindi quando il prezzo si allontana Px si allontana da questa mia formulina, a me conviene comprare i diritti e poi sottoscrivere al prezzo di emissione. Viceversa il caso opposto, quando questa parte della mia formula è superiore a questa, poi ovviamente dovrei a quel punto o compro i Px e vendo short D oppure compro D e vendo short X questo sarebbe l'arbitraggio ma non voglio ovviamente farla complicata sul fatto che una volta non si potessero vendere i diritti di opzioni. sa di fatto che ci deve essere questa equivalenza se non c'è questa equivalenza se uno Px è più basso ovviamente mi conviene comprare Px e vendere questo se questo è più basso mi conviene comprare questo e vendere questo e poi chiudo l'operazione dopo 20 giorni comunque diciamo che ci sono le possibilità di arbitraggio voi sapete che l'arbitraggio è la cosa più profittevole e più deliziosa che c'è sui mercati finanziari perché significa avere un rischio zero e un profitto profissitivo quindi di soldo chi non risica non rosica rischio qualche rendimento nell'arbitraggio avete l'utile ma non avete il rischio ma questo diciamo non non ci non dobbiamo importare non ci importa in questo momento cosa ci importano queste due formulette che sono imparare a memoria che sono poi un'elaborazione di questa se fate i vostri passaggi algevrici le trovate le trovate sostanzialmente per dirvi che questi tre prezzi prezzo di missione prezzo a ex e diritto e il rapporto tra nuove azioni e vecchie azioni sono tutti legati assieme come 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 deve essere perché il diritto d'opzione è un pezzo di prezzo che sta assieme al prezzo dell'azione all'interno di pikum il prezzo con diritto che è quello delle 17.30 del giorno prima dell'aumento di capitale pikum è quello che tiene dentro il diritto d'opzione e il prezzo dell'azione il giorno dopo noi abbiamo px più il diritto nella proporzione azioni nuove vecchie azioni perché io stacco questo diritto finanziario perché inevitabilmente quando io ho un aumento di capitale io ho una riduzione del prezzo di mercato allora se questa è riduzione del prezzo di mercato dell'azione ricordate l'esempio 100 più 50 diviso quindi scende di solito il prezzo dell'azione se non ci fosse il diritto d'azione che va a catturare questa differenza e questa differenza è vendibile da chi è già azionista perché la può vendere sul mercato diciamo il vecchio azionista non potrebbe preservare la sua ricchezza finanziaria se non ci fosse la possibilità di vendere il prezzo di opzione lui si troverebbe una decurtazione del prezzo dell'azione invece col diritto finanziario la può vendere e vendendo diritto finanziario lui si troverà del denaro contante che gli va a compensare la caduta di prezzo delle azioni adesso lo sto spiegando in maniera brutale ma per farvi capire qual è il meccanismo ok quindi è vero che il vecchio azionista ha perso ha diluito la quota che non ha partecipato all'aumento del capitale ma ha mantenuto la ricchezza finanziaria grazie